bichetto d'onore attenti presenta l'onore compendante da una formazione, specializzazione, dottrina dell'esercito Il nome del Capo dello Stato Voi riconoscerete il generale di dizione Massimo Scala Quale comandate il centro di simulazione e validazione dell'esercito Saluto cordialmente le associazioni combattistiche d'Arca che sono qui rappresentate in maniera molto numerosa testimoni dei più intimi valori spirituali della Forza Armata e insostituibili anello di congiunzione tra la dimensione militare e il contesto civile con la certezza di sempre più proficue collaborazioni per il sostegno del personale in servizio ed in congevo agli organi della rappresentanza militare un particolare riconoscimento per la peculiare attività che svolgono tutti i giorni all'interno dell'Istituto Alla città e al suo rappresentante che ospita questo centro un grado pensiero per la partecipe e collaborazione da sempre fornita Grazie 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 Grazie